Ciao a tutti, bentornati sul canale di GeneticDNA e con questo quinto gameplay di Remember Me prima parte dell'episodio 3 ragazzi mi scuso se ultimamente carico poco ma veramente tra lavoro in più sto pc di merda che mi ha dato un po' di gabole sono un po' diciamo, ho perso un po' di regolarità con l'upload dei miei gameplay che poi una piccola colpa è anche vostra perché porca miseria 20 visualizzazioni in 4 giorni ragazzi qua, state un po' calando, state un po' calando, state un po' calando vi voglio attivi, attivi diciamo che prima di caricare, no dai che se ne frega dai non voglio star lì a dire prima di caricare un video aspetto che arriva a tot visualizzazioni se no non carico più niente, dai, fai niente amen allora, dov'è che ero rimasto? qua? ok allora, cerchiamo o magari c'è anche da dire che una gran parte di voi sarà anche in vacanza sicuramente e giustamente con l'arrivo dell'estate vi dico che cazzo sto su youtube a guardare i video di un pirla che gioca quando posso andare puntini, puntini, puntini al mare prendere il sole e quant'altro anche io sono il primo che con l'arrivo del bel tempo i weekend li passo in moto quindi non è che sto a casa a smanettare con le console come molti possono pensare che noi gamer siamo così in realtà non è vero tra l'altro fra un po' arriverà una sorpresuccia un acquisto a sorpresa che non è un gioco però mi potrà aiutare anche che cazzo stavo facendo? cosa sono quei cosi lì? sembra un girino beh, che schifo attaccata al muro schifezza immonda a me che ha senso quel coso che gli gira dietro la testa sembra un San Michel? eh, sabotaggio no 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 io non ce l'entro cos'è qualcosa? Callum! Callum! educa Callum! un pacchetto cosa che vuoi? ehi, guardali lì gli stronzoni c'ho stronzoni però io prima voglio 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 magari non mi vedono magari non mi vedono ho detto Callum! ma che cazzo vuoi? ma va fanculo tu e il tu 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 fanculo questi tutorial da merda va fanculo via si capito ok bene questo devo fare va 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 via ci penso dopo dov'è il pacchettino? eccolo qua il pacchettino oh fanculo a merda cazzo vuoi dai gollum bim batabim batabam 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 bim bum non mi ha preso stronzo bam eh stronzo eh ma non ci vedo una pipa di niente telecamera gira cazzarola cavaccio cavaccio eh non lo vedo aiuto toh toh e toh e cazzo crema però ok bene allora poi devo andare qua cos'è? boing che cosa c'è? il nulla la morte è vuota la morte è vuota? come la morte è vuota? la morte è vuota calum ma che ca... sentili sentili come come schizzo sono schizzati sentili come schizzano fuori sono schizzati eh ehi che ha detto? ehi mica guardi eh pepepepepe oh cazzarola troia la vacca la merda stronzo pezzo di merda toh merda spalora bla 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 ok devo sparare a quelli che stanno su praticamente arrampicati come delle scimmie da zoo toh poing si ma va si ma va qualcuno però oh pim pata pam pam pim no forse non è una buona idea dove siete dove siete dove siete? eh punire sorvegliare pulire ah non mi hai preso fronzo faccia di culo tipi di merda tipi di merda uohohoho ahah No Dove sei? Dove sei? Faccione Eccoti qua, faccione Oho, ora tocca pezzone di merda Ah, mi lascio prenderti perché forse sei troppo forte Uh Ah, aspetta un attimo Ma come, è già finito? Uffa Era divertente Cos'è quello? Ok Dov'è sacchi della spazzatura? Ma chi se ne fotte? Porca miseria qui Qua ci sono i panni stesi Non so che ne ho parigi Usano ancora i panni stesi fuori dalla finestra Siamo nel 2048 E usano ancora i panni fuori dalla finestra Bene Che casino Jax 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 Ehi Ho capito il panda che abbiamo sulla maglietta Si chiama Jax 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 il panda Che cazzo Che cazzo Che cazzo Si vabbè Mica vorrete Dove cazzo siete? Scusate ma io C'ho FIFA Oh no Buongiorno Salve Oh porca puttana Eh Uh Oh Eh 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 Questo non l'ho visto Questo non l'ho visto Questo non l'ho visto Ma che palle Serruttore di palle Di gollum Quindi Quante Que Esquiva Esquiva Che cazzo era Ah che palla cosa vuole Cos'è una combo blu Che cazzo è sta roba Ok Allora vediamo un po Vediamo un po Ok Lo mettiamo qui E lo sostituiamo con Con questo Sì Perfetto Poi Poi Sostituiamo questo Con questo Ok Bene Pim Pim Pum 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 Che cazzo è cambiato Ma porca troia Cazzo ma crepate Brutti pezzi di merda Porca troia Che sono due Minchia Eh vaffanculo Però Oddio Vedo una secca Potete tornare massata Quei fiordi Brutti Brutti Ho fatto fuori Mi Mo E mo Que cazzo sta E beh 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 Ah eccolo lì Poing Ok Ok Uno Tuck Bella Passeggiata Ohlala Oddio Che bordello Mi sto divertendo Un casino Vabbè comunque ragazzi Scusateve lo sfogo di prima Ma veramente vi ringrazio Tutti Perché comunque siete Numerosi Mi state scrivendo Tantissimo E E E Boh Purtroppo lo so che sto un po' Diminuendo con le novità Però a te Oh ragazzi Qua Devo vedere Il Il che? Ah sì Ancora Johnny 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 Dello slam 404 Ancora ricorda tutti i vecchi passaggi Nascosti sotto la bastiglia E E Almeno così dice Age Ok sto arrivando Vabbè comunque Con l'arrivo del Come stavo dicendo prima Con l'arrivo delle belle stagioni Penso che Anche voi Non avete voglia di stare A casa A guardare i video Quindi dai Si rompe tutti i presi Si rompe tutti i presi Porca vacca Wow Che cazzo Beh Oddio Un'interferenza Cazzo Che cazzo Era qualcosa Porco giuda Buah Bene E Non mi piace Non mi piace sto posto Per niente Proprio per niente Oh cazzo Quello è sparito Oh Ma che cazzo Oh merda Oh merda Ah ma figli di puttana Diventano invisibili Se non c'è luce Porca madoncina Pezzi di merda Ecco qui Ecco qui Tiro 450 papine Brutti Stronzi Maledetti Bastardi Tra un po' arrivo Tu intanto tieni gli occhi ben aperti Tra un po' arrivo Va bene Speriamo Ma anche qua Ehm Beh Oh La la E la scossa Qui c'è la scossa C'è la scossa Via Via Oddio Via Oh mamma No 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 Salta di qui No Vai ad andare su Vai su Brava Salta Oh merda T'ha posto? Appunto Forza e coraggio Nen Nen Non è successo niente Dai su È una dura Muoviti 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 Bene 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 La prima parte Del terzo episodio Finisce qui Ragazzi Vi aspetto ai prossimi gameplay Commentate Iscrivetevi Ciao ciao Da GeneticDNA Grazie a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Grazie a tutti.